Buongiorno a tutti amici di Fotoema, siamo qui oggi per presentarvi un nuovo obiettivo di casa Sigma, una delle lenti più ambite, il 70-200 2.8, che si rinnova. Si rinnova con il nuovo stabilizzatore, l'utilizzo del magnesio per la costruzione di questo magnifico obiettivo e l'utilizzo dei motori Hypersonic Motor, quindi una velocità di autofocus pazzisca. Procedo velocemente con l'unboxing, il prodotto è importato M-Trading, quindi abbiamo tre anni di garanzia. Andiamo adesso a vedere all'interno della confezione cosa troviamo. Innanzitutto il certificato di garanzia M-Trading, poi ci sono le istruzioni anche in italiano. Questa pratica sacca per il trasporto, che lo protegge anche da eventuali urti. Vari anelli di protezione. Questa è la lente. Eccola. E ovviamente c'è anche un paraluce in plastica, molto molto rigido. Parliamo velocemente della lente. La sua particolarità è che all'interno troviamo 10 lenti di nuovo a concezione. Un po' come le ha utilizzate anche Nikon, sono lenti a bassa dispersione. Quindi sono 9 lenti FLD e una SD. Praticamente l'obiettivo ha 11 lamelle, quindi praticamente ha un ottimo bokeh ed è molto veloce in autofocus, lo abbiamo provato. Tra poco gli monteremo una macchina e ve lo facciamo vedere. Sul lato troviamo tutta la ghiera qui delle informazioni e delle impostazioni. In particolare troviamo autofocus, la possibilità del manual override, quindi la possibilità di andare a modificare l'autofocus in manuale mentre lo sto usando in autofocus e la totale esclusione dei motori, quindi il totale manual focus. La possibilità di utilizzare tutto il range di messa a fuoco o limitarlo da 3 metri a infinito. Non ricordo la distanza minima di messa a fuoco, vi dico la verità, dovrebbe essere 1,20 metri, cioè 120 centimetri. Il tipo di stabilizzatore che si trova in due posizioni o nella posizione di off. Nella prima posizione dovrebbe essere quello là a mano libera, quindi con la maggior compensazione possibile. Nella seconda modalità dovrebbe essere la classica per il monopiede o per il trepiede, che quindi disattiva l'asse del sussultorio. Ecco, non mi veniva il termine, scusatemi. E qui invece l'ultimo setup per il custom. Possiamo tramite la basetta andare ad assegnare delle impostazioni definite e quindi personalizzare al 100% questo obiettivo. Ma non è finita qui perché troviamo 1, 2 e 3 tastini cliccabili. Quindi con lenti con attacco Sigma e Nikon avete bisogno della basetta per programmarle. Con macchine ad attacco Canon, come in questo caso, potrete andare direttamente dal menu della macchina a impostare questa funzione. Vi faccio vedere velocemente. Controlli personalizzati Si vede? Bene. Ecco qui, possiamo andare ad assegnare la funzione che più ci interessa, che può essere quella dello stabilizzatore, che può essere quella dell'attivazione o della disattivazione dell'autofocus. Lo personalizzerete come meglio credete. Innanzitutto vi faccio sentire, forse un po' difficile, ma la reattività dell'autofocus sicuramente riuscite a sentire dal mio microfono, l'aggancio è fulminio, molto sicuro, sia a 70 che a 200. Non ci sono incertezze. Il punto è scatto ovviamente su superfici dove troviamo un certo contrasto, quindi non andate a mettere fuoco sul bianco o sul nero, perché è normale che la macchina non vi riesce ad agganciare. Che dite? Il peso dovrebbe essere sui 1800 grammi, quindi un chile e otto, ma devo dire che è ben bilanciato. Vi faccio vedere. Lo reggo da qui e... quasi sembra leggero. per il tipo di obiettivo. Finalmente troviamo una costruzione ottica degna, mancava solo Sigma al rinnovamento del 70-200, Tamron col suo G2 ha fatto un ottimo lavoro, Nikon con la sua serie FL, anche, e lo stesso Canon che ha tirato fuori la sua terza serie, mancava solo Sigma con questo obiettivo che, ahimè, penso abbia fatto un ottimo lavoro, lo proveremo meglio sul campo, lo proverete voi, lo proveremo insieme e daremo riscontri su quest'ottica che mi sembra promettere molto molto bene. Il prezzo, come ricorda Sergio, è di 1.390, quindi molto interessante, soprattutto visto che comunque gli obiettivi più blasonati hanno un costo ben maggiore. Non mi resta altro che rimandarvi, ecco, alla prova qui in negozio, all'acquisto. Vi saluto e vi auguro una buona giornata.